Come viveva l'uomo nel paleolitico e come cambia la sua vita nel neolitico? Nel neolitico viene fatta l'invenzione dell'agricoltura. Grazie a questa invenzione l'uomo può diventare stanziale, può diventare sedentario. Prima gli uomini dovevano spostarsi necessariamente quando finivano le loro risorse alimentari. Se loro raccoglievano i frutti, finivano i frutti, dovevano necessariamente spostarsi per non rischiare di morire di fame. Se finivano la selvaggina dovevano necessariamente spostarsi in cerca di nuovi animali da cacciare. Rischio morire di fame e per non rischiare di morire di fame dovevano spostarsi. Ciao a tutti, vi raccomando non perdete i prossimi video.